L'alveare è un nuovo sistema che è nato da poco in Francia ma che qua in Italia sta prendendo davvero piede, è un modo per riuscire a trovare i prodotti del nostro territorio locale, vicino a casa, nel modo più veloce e più comodo ma soprattutto sicuri di trovare dei prodotti buoni, genuini che vengono attivati qui in Canavese e trovati appunto qua a Quornier. Funziona tutto su una piattaforma internet quindi si può trovare l'alveare che dice si di Quornier sulla pagina dedicata su internet, lo trovate anche sui social, scegliere i prodotti dei produttori che sono registrati e inseriti sul sito e appunto comprare, acquistare i prodotti e venirli a ritirare direttamente qui in Villa Filanda il venerdì dalle 18.30 alle 20 circa per incontrare i produttori, scambiarsi idee e vivere la comunità dell'alveare. Quanti sono i produttori che aderiscono a questa iniziativa e quanta sono le persone registrate con loro? Allora i produttori sono circa una decina, speriamo che crescano sempre di più come anche i membri della comunità che sono circa 120-130, un numero preciso perché in questi giorni sono aumentati davvero tanto e siamo proprio contenti, speriamo che tutto questo cresca ma che vale sempre meglio, per dare a tutti la possibilità, l'opportunità di conoscere quanto davvero il canavese può offrire, quanto è importante cercare i prodotti locali per dire una cosa buona, per il gusto. Tra le varie cose che pensiamo di fare l'alveare che dice si ci offre la possibilità di incontrarci tra noi produttori, tra noi membri e perché no magari riuscire a organizzare dei momenti di approfondimento riguarda l'agricoltura, riguarda il territorio, riguarda cosa vuol dire cercare i prodotti fatti bene, buoni, sani, ma che ci facciano anche bene. Quindi abbiamo bisogno anche per approfondire un po' il tema che soprattutto adesso, che stiamo in un'attività, a volte non è chiaro, a volte ci lascia un po' in balia solo delle pubblicità e non conosciamo bene cosa vuol dire davvero ad esempio la certificazione biologica e quindi la nostra volontà è anche quella di approfondire questi temi. Grazie a tutti!